Da un lungo periodo osservo in te un'ombra di tristezza, un eco di stanchezza che si riflette sul tuo volto. Sebbene la tua bellezza continui a risplendere, come madre, sono in grado di scrutare oltre le apparenze. Nell'iride dei tuoi occhi, Gwenda, intravedo il peso del dolore e una profonda malinconia. Attraverso le pagine di questa lettera, Maria Teresa Ruta ha tessuto pensieri sinceri rivolti alla figlia, Gwenda Goria. Le parole di affetto e preoccupazione hanno trovato dimora nel settimanale di più. Con delicatezza, la conduttrice ha distillato il suo amore materno, rivelando come le tue sofferenze abbiano radici nel desiderio di maternità che la vita, finora, ha rifiutato di consegnarti. L'ombra della difficoltà sembra averti stretto nel suo abbraccio dopo la perdita di un piccolo essere. Attraverso queste righe, la Ruta ha voluto offrirti la sua forza e il suo sostegno. Non lasciare che la tristezza diventi padrona della tua vita. Affronta ogni giornata con coraggio, sembra sussurrarti nelle parole della lettera. Un passaggio importante della lettera è dedicato al tuo compagno, Mirko Gangitano. Che il vostro amore continui a fiorire, senza il peso opprimente del concepimento, scrive Maria Teresa. Nelle sue parole si legge l'incoraggiamento a coltivare il legame con Mirko, a costruire insieme senza la pressione del futuro incerto. L'amore tra voi è stato riconosciuto e approvato da lei, come un faro di serenità nella tua vita. E nel solco delle tue emozioni, c'è l'invito a concentrarti su te stessa, a ritrovare la donna forte e l'attrice brillante che sei. Maria Teresa evoca il tuo spirito creativo, le energie che scorrono dentro di te, suggerendo di utilizzarle per creare un giorno speciale, il giorno del vostro sì. Un invito a immaginare e pianificare il tuo futuro luminoso. Il sogno dell'abito bianco può diventare realtà. Se lo desideri, posso essere al tuo fianco durante questa scelta, conclude la lettera con affetto e vicinanza. Sono parole che risuonano come un'armonia, come una promessa di supporto e partecipazione. A proposito, Maria Teresa Ruta si prepara a fare ritorno sullo schermo televisivo. La sua presenza illuminerà la prossima edizione di tale e quale show, un programma guidato dalla maestria di Carlo Conti su Rai 1. Con il suo carisma e la sua energia, Maria Teresa si appresta a ispirare nuovamente il pubblico. Così, il messaggio materno, impregnato di affetto e consigli, diventa un inno alla resilienza, all'amore e alla speranza. Un mosaico di emozioni che, attraverso le parole di Maria Teresa Ruta, avvolge Gwenda Goria come un abbraccio amorevole, invitandola a guardare al futuro con occhi rinnovati. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.